La sentenza di primo grado sulla Sanitopoli non ha tenuta logica, è un campionario stupefacente di insensatezze. Il Tribunale è guidato da una convinzione preventiva, quella di trovarsi di fronte a fatti corruttivi gravissimi e di doverla punire. Così l'avvocato Gian Domenico Cagliazza, uno dei legali che assistono l'ex presidente della regione Abruzzo Ottaviano del Turco, nel corso della sua durissima ringa difensiva al processo di secondo grado presso la Corte d'Appello dell'Aquila sull'inchiesta che nel 2008 decimò la giunta regionale con l'arresto del governatore, poi condannato a 9 anni e 6 mesi di reclusione. In aula, gli avvocati difensori degli imputati più eccellenti, Ottaviano del Turco, Lamberto IV, Camillo Cesarone e Sabatino Aracuo. Abbiamo fatto, aggiunto Cagliazza, un processo in cui un signore prende 6,2 milioni di euro in contanti e di questa somma non c'è segno né di un euro né della traccia di un euro. Spesso i soldi, frutto di corruzione, non si trovano, il borsone di contanti non si trova quasi mai, ma i soldi lasciano sempre una traccia. Del Turco è stato ministro della Repubblica e sindacalista della CGL, ma la sua vita è continuata in una sobrietà leggendaria, encefalogramma piatto. Nel corso della ringa, l'avvocato Cagliazza, parlando degli accertamenti fiscali eseguiti dalla Guardia di Finanza, ha ricordato anche l'acquisto di tre immobili da parte di Del Turco, ma per pagarli, ha detto sempre illegale, ha smobilizzato una polizza di 15 anni prima e messo in vendita tre quadri dell'amatissimo Mario Schifano, suo amico personale. E poiché questo è inconciliabile con l'accusa di tangenti, la sentenza bellamente non ne parla. Nelle quattro ore di arringa, l'avvocato Cagliazza ha parlato di un'aggiunta che doveva essere fatta fuori, perché operava con danno gravissimo, alle operazioni illegittime di alcune cliniche private. Abbiamo vite distrutte, una reputazione politica, quella di Ottaviano del Turco, distrutta dopo decenni di vita pubblica. Su di lui si è battuto un ciclone, paga i veri poteri forti di questo paese. Poi l'invitabile accenno sui viaggi eseguiti dal grande accusatore Vincenzo Angelini, ex patron del gruppo Villapini, le cui dichiarazioni hanno portato alla decapitazione dell'aggiunta regionale del Turco con l'arresto del governatore. Intanto Angelini, per il crack di Villapini di Chieti, è stato condannato a dieci anni di reclusione per bancarotta fraudolenta.